Nella seconda metà di ottobre si concentravano i funerali in mezzo alla nebbia mi sorridevi come in estate temporali alla fine della funzione ti nascondevi nelle utopie fino a sparire anche dagli specchi dalle migliori fotografie Nella perita fra le tue gambe ho tolto il proiettile e messo il dito l'anima nel bicchiere e il tuo sedere nell'infinito Scegli il tuo polmone preferito che c'è un inverno da passare a sigarette joy di visione suonando canzoni per chi muore come una bomba fatta esplodere nel sole I fantasmi sono invenzioni dei titolisti di avvenire per venderci labili più costose quando staremo per morire per i figli del divorzio un sacramento è solo un rito Gesù Cristo non risorge se l'hai bene seppellito Nella perita fra le tue gambe ho tolto il proiettile e messo il dito l'anima nel bicchiere e il tuo sedere nell'infinito Scegli il tuo polmone preferito che c'è un inverno da passare a sigarette e joy di visione suonando canzoni per chi muore come una bomba fatta esplodere nel sole Ora che non si è scontato Enrico né di cercare casalecco né di uscire dal partito per davvero daremo inizio al rito che questo lutto lungo un secolo è finito non si è scontato Grazie a tutti